allora attacchiamo direttamente con la soluzione di questo esercizio che di cui abbiamo letto insieme il testo giovedì scorso salvo imprevisti però tra oggi e la prima ora di giovedì di terminare questo esercizio insieme e nella seconda ore di giovedì vedere insieme la soluzione al tema d'esame che farete in laboratorio domani quindi domani le ore di laboratorio saranno usate per proporvi la realizzazione di un tema d'esame di quelli passati quindi nulla di particolare però potrebbe essere utile se voi in laboratorio provaste a farlo come all'esame quindi su carta non su pc e tenendo conto anche dei tempi nel laboratorio abbiamo un'ora e mezza anziché due all'esame però almeno riusciamo o riuscite un po' a tararvi rispetto a quello che è lo svolgimento della prova d'esame e poi giovedì nella seconda ora che poi l'ultima finale del corso vedremo insieme anche anche un po' rapidamente avrete provato a fare in laboratorio i punti salienti della soluzione ok ma oggi tuffiamoci direttamente in questo esercizio delle polizze assicurative qui non sto a rileggerlo perché l'abbiamo già fatto insieme la volta scorsa partiamo direttamente a costruire il modello concettuale modello concettuale che parla di polizze auto relative ad autoveicoli che hanno un titolare della polizia cioè un proprietario dell'autoveicolo e appartengono a certe fasce chilometriche quindi vediamo una certa serie di informazioni che sono informazioni praticamente perenni eterne cioè chi sono i titolari e quali sono le auto sulle auto sono stipulate delle polizze che però ogni anno devono essere rinnovate quindi ci sono delle informazioni che ogni anno cambiano quindi ogni anno quella polizza quali quale è stata rinnovata sì se sì in quale fascia quindi c'è le informazioni sul titolare sull'auto che non cambiano mai essenzialmente sulle polizze che cambiano ogni anno e poi ci sono le informazioni sugli incidenti che possono capitare anche più volte quindi dovremmo fare attenzione a tenere abbastanza separati questi tre livelli allora facciamo un nuovo progetto nel quale creiamo un diagramma delle classi come si può chiamare questo centralina connessa chiamiamolo centralina in cui quali sono le classi principali che vogliamo modellare che abbiamo bisogno di modellare allora io ci vedo sicuramente un veicolo sono le auto gli autoveicoli su cui stipuliamo le polizze il veicolo ha un proprietario mi è capitato il mouse ha un proprietario e abbiamo il testo dice che ovviamente un proprietario può anche essere proprietario di più di un veicolo quindi sono necessarie di sicuro due classi separate perché ci sarà poi una relazione uno a molti tra proprietari e veicoli allora questi due sono chiari poi abbiamo una polizza una polizza viene stipulata su un veicolo e può essere rinnovata di anno in anno ok allora io provo a mettere come tentativo una classe polizza e una classe rinnovo poi eventualmente ci accorgeremo se alcune di queste classi debbano in realtà essere collassate siano poi una classe unica vediamo poi sulla base delle informazioni che ci stanno dentro poi il testo a un certo punto parla anche di centralina centralina fornisce dei dati ha un numero identificativo eccetera eccetera allora io comincio a scriverla poi pensiamo se mantenerla o no questa è la parte a parte il rinnovo che avviene annualmente il resto è la parte statica sono le classi principali che una volta registrate non cambiano mai poi c'è la parte relativa agli incidenti per cui di tanto in tanto succederà un incidente e quindi dovremo registrare le informazioni relative a quell'incidente che si sarà verificata in un certo luogo a una certa velocità eccetera eccetera e come ultima cosa ripensando al testo ci sono ancora i dati della centralina la centralina registra i dati e li manda in continuazione alla società di sicurazione quindi possiamo avere ancora una classe che sono i dati registrati dalla centralina lo metto qua vicino alla centralina come prima scrematura del testo adesso possiamo riguardarlo insieme ma mi sono saltati all'occhio questi concetti quindi rivediamo un attimo l'azienda di sicurazione, polizze centralina auto polizza, titolare veicolo beh qui non chiama l'auto chi lo chiama veicolo ma è la stessa cosa ovviamente polizza centralina numero di serie ogni titolare può possedere più veicoli per ciascuno di quali dovrà si stipulare una polizza ah ecco le fasce di prezzo queste vanno anche modellate perché sono qualche cosa che indipendente dal proprietario dell'auto della polizza non fa parte delle fasce di prezzo fa parte dell'offerta, del catalogo in certo senso di offerta dell'assicurazione associata a certe informazioni automobilista seleziona la polizza più adatta qui da qui in avanti sono tutte informazioni di processo direi selezionando la fascia riceverà la centralina installerà conferma l'avvento di installazione i dati ricevuti li abbiamo messi dalla centralina verrà applicata una penale potrà rinnovare qui c'è un rinnovo durante l'anno ogni incidente abbiamo il concetto incidente e poi ci sono le informazioni sulla gestione dell'incidente e sulle informazioni legate all'incidente centralina la liquidazione del danno è chiaramente l'importo farà parte della classe incidente come attributo centralina trasmette i dati la quale può confermare che è venuto l'urto in caso di foramento la polizza verrà spostata sulla fascia successiva va bene direi che non abbiamo dimenticato nulla adesso vediamo attributi e relazioni di queste classi e ricordiamoci che abbiamo sempre ancora il dubbio la domanda c'è sempre se servono tutte queste classi se alcune possono essere in realtà unite perché rappresentano lo stesso concetto con nomi diversi ma rappresentano lo stesso concetto beh allora il proprietario beh il più facile io conosco il nome e cognome di questo tizio il titolare di cui sono noti i codici fiscali i dati neagrafici di residenza quindi abbiamo codice fiscale che è una stringa poi abbiamo dati neagrafici quindi nome che è un altro testo e residenza è proprietario di un veicolo dice il testo che nel veicolo sono noti la targa il numero di telaio la marca il modello la potenza e la data di immatricolazione vabbè sono attributi semplici che non danno problemi il veicolo quindi è una targa che è un testo il numero di telaio che è invece un numero poi abbiamo la marca il modello la potenza che è un numero e poi abbiamo la data di immatricolazione così ecco nello scrivere marca modello e potenza questi tre attributi un dubbio mi è venuto sul fatto che marca modello e potenza siano attributi della classe veicolo oppure debbano essere attributi di una classe separata che sono i tipi di veicoli perché ad esempio un'auto di una certa marca di un certo modello avrà sempre quella potenza quella cilindrata quindi se io devo assicurare 1000 auto panda la panda 1000 o come si chiama adesso dovrei riportare scrivere ogni volta gli stessi dati mentre invece sono tutte auto dello stesso tipo quindi potrebbe essere utile più utile avere una classe tipo veicolo che si porta dentro questi tre attributi la marca il modello e la potenza e quindi un determinato veicolo io so che è di un certo tipo e possiede al suo interno solamente i dati specifici la sua targa il suo numero di telaio e la sua data di matricolazione quindi qui abbiamo una relazione di tipo un veicolo è di un certo tipo e il tipo sarà sicuramente unico e un determinato tipo di veicolo può avere un numero arbitrario di veicoli di quel tipo assicurati evitiamo di avere delle ridondanze di rappresentazione dover scrivere più volte il modello di un'auto quando in realtà quello è un dato che si ripete sempre uguale e quindi lo separiamo lasciamo a ciascuna classe un compito più specifico vabbè già che abbiamo disegnato una relazione disegniamo anche la relazione tra proprietario e veicolo la relazione possiede quindi un veicolo ovviamente è posseduto da un proprietario ben preciso che è anche il titolare della polizza e il proprietario può possedere una o più veicoli dico almeno uno perché nel CNRS 0 di sicuro non ha stipulato nessuna polizza non è non è registrato nel sistema adesso le altre classi lassù polizza e centralina della polizza cosa sappiamo che è intestata un titolare che è per forza il proprietario dell'auto è associata a un veicolo e per quella polizza sarà diciamo così emessa e dovrà essere installata una specifica centralina la polizza è relativa al veicolo e non al titolare questa frase qua ce lo fa capire se ogni titolare può possedere più veicoli per ciascuno di questi dovrà essere stipulata una polizza diversa quindi la polizza la dobbiamo mettere in relazione con veicolo e non con titolare non col proprietario poi io ovviamente so chi è il titolare perché se la polizza è in relazione con il veicolo il veicolo in modo univoco identifica il proprietario e poi c'è tutto il discorso sulle fasce di prezzo che dovranno essere associate a questa polizza di dati suoi la polizza cos'ha? nessuno direi cioè dati che non siano relativi alla relazione a cui partecipa può avere il numero di polizza via ci sarà di sicuro non è citato nel testo ma il numero di polizza c'è sempre e poi la cosa importante è che è associata al veicolo allora mi sposto un po' più in qua in modo che la relazione si possa vedere quindi la polizza è associata a un veicolo che cardinalità c'è tra polizza e veicolo? la polizza deve essere ovviamente associata a un veicolo ben preciso quindi qui ho un 1 e per un veicolo quante polizze esistono? una giusto? o al massimo 0 cioè alla peggio 0 quel veicolo non è assicurato poi mi chiedo cosa lo registro a fare nel mio database giusto? quindi mettiamo 0 1 per essere conservativi e tra polizza e centralina la centralina avrà un suo numero di serie e la centralina è relativa a una polizza o a un veicolo centralina lo leggo a polizza o lo leggo a veicolo è uguale tra polizza e veicolo c'è una relazione 1 1 per cui se lo leggo a polizza da lì risalgo facilmente a veicolo se lo legassi a veicolo da veicolo potrei risalire a polizza meglio legarlo a polizza perché qui c'è uno 0 1 quindi può darsi che un veicolo nel mio schema non abbia una polizza associata allora in quel caso non avrà neanche la centralina quindi l'esistenza della centralina deriva dall'esistenza della polizza e questa è una relazione sicuramente 1-1 la centralina senza polizza non esiste la polizza senza centralina senza che sia stata assegnata la centralina non è gestita allora abbiamo queste tre classi qua polizza, centralina e veicolo che sono tra di loro molto legate al punto che probabilmente è possibile unificarlo possibile non obbligatorio se volessimo di sicuro non esiste scusate sono molto tentato di mettere insieme centralina e polizza mentre sul discorso veicolo polizza sono un po' meno così convinto che sia utile metterle insieme in realtà appunto ogni volta che c'è una relazione 1-1 le informazioni sono sempre collegate in mononivoco data una targa so risalire al numero di serie della centralina e viceversa come se fossero nello stesso oggetto come se fossero nella stessa classe quindi io ciò che farei è per non mantenere troppe classi unire polizza e centralina quindi faccio sparire la classe centralina perché la fondo con quella della polizza quindi avrò il numero della polizza e il numero di serie della centralina associata con la polizza e la fascia perché la polizza deve essere associata a una fascia di prezzo beh noi abbiamo la classe fascia di prezzo la fascia di prezzo da che cosa è caratterizzata? è caratterizzata dal chilometri massimi che è un numero è caratterizzata dal numero di incidenti massimi e ovviamente avrà un suo premio che è un valore in denaro cioè quanto costa all'anno e un suo massimale cioè quant'è il massimo che l'assicurazione può rimborsare a fronte di un incidente occorso da un veicolo assicurizzato da una polizza in quella fascia assicurato da una polizza in quella fascia queste informazioni sono indipendenti dalle auto che ho questo è il listino prezzi in certo senso della società dell'assicurazione che per come è descritto non dipende dal tipo di veicolo quindi che io abbia una Panda o che abbia una Ferrari le fasce sono le stesse quindi il premio che devo pagare annualmente è lo stesso massimale che mi verrà rimborsato è lo stesso e così via non è del tutto realistico ma il testo ci descrive in questa situazione come leggo polizza e fascia di prezzo e la fascia di prezzo non è ovviamente da fatemi dire rifaccio la frase una polizza una determinata polizza deve ovviamente essere associata a una fascia di prezzo ma questa fascia di prezzo può cambiare ogni anno io il proprietario del veicolo può rinnovare la polizza selezionando una diversa fascia di prezzo e in più c'era il caso sfortunato in cui il proprietario sfora il numero di incidenti e quindi il sistema gli cambia di forza la fascia di prezzo quindi la reazione tra polizza e fascia di prezzo è una reazione a molti molti a molti che la fascia di prezzo possa essere applicata a molte polze è ovvio che una determinata polizza possa avere più fasce di prezzo è forse un po' meno ovvio ma se pensiamo nel tempo è così in un certo istante di tempo oggi ho una certa fascia di prezzo ma complessivamente avrò un certo numero di fasce di prezzo allora questa relazione tra polizza e fascia deve ovviamente essere specificata con l'anno a cui si riferisce come minimo oppure la data di stipula a partire da questa data vale questo allora il minimo che possiamo fare è creare una reazione con classe di associazione che possiamo chiamare annualità quindi una polizza in una certa annualità in cui ho la data di stipula data di partenza si applicherà una certa fascia quindi data una polizza io uno molti posso avere molte fasce di prezzo diverse ciascuna delle quali a partire da una certa data quindi faccio la polizza oggi che è il 16 gennaio 2018 scelgo una certa fascia l'anno prossimo 16 gennaio 2019 la stessa polizza sarà associata a un'altra fascia di prezzo con chiaramente una data di inizio diversa se capitasse che a metà anno io facessi troppi incidenti è sempre possibile cambiare la fascia di prezzo aggiungendo una relazione indicando la data dalla quale questa relazione è valida ad esempio dimmi c'è una domanda anzi due vieni tu allora tu avresti voluto mettere fascia di prezzo come classe di associazione tra polizza e veicolo cioè qua in mezzo no no per due motivi il primo è che un'association class esiste solo quando c'è la relazione tra i due elementi quindi i valori memorizzati dentro la classe associazione esisterebbero solo dopo che il veicolo è stata associata la polizza ok invece noi queste fasce di prezzo esistono indipendentemente se anche avessimo fatto zero polizze quelle esistono non solo esistono sono sempre le stesse altrimenti se io lo mettessi qua come classe associazione tra polizza e veicolo è come se io negoziassi veicolo per veicolo qual è il prezzo da fare quindi sarebbe sarebbero dati specifici relativo alla singola polizza il secondo motivo per cui non andava bene è che non avrei potuto replicarlo sugli anni cioè per farlo su più anni avrei dovuto liberare una di queste cardinalità in modo che lo stesso veicolo potesse avere diverse polizze nei successivi anni in modo che su una polizza diversa avrei avuto delle fasce descritte diverse però mi rompe un po' tutto perché se ho più polizze avrò anche più centraline quindi non non stavo in piedi l'altra domanda? centralina come situazione tra polizze e veicolo con chi attributo il numero della centralina allora quando noi abbiamo una relazione 1-1 come questa lasciate perdere l'opzionalità questo 0 che non cambia la sostanza quando abbiamo relazioni 1-1 che voi mettiate un attributo qua che lo mettiate qua o che lo mettiate sulla classe dell'associazione non cambia niente perché comunque è sempre associato in modo univoco al veicolo o alla polizza o all'unica relazione che c'è tra il veicolo e la polizza c'è una sola associazione qui c'è un dato solo da scriverlo di sopra che è associato in modo univoco sia al veicolo che alla polizza quindi quando abbiamo classi con relazioni 1-1 a seconda un po' dell'interpretazione dei punti di vista c'è altri attributi lo potremmo vedere da una parte o dall'altra ma la sostanza non cambia stiamo modellando la stessa cosa se doveste andare a costruire poi il database da questo in uno dei passaggi di ottimizzazione mettereste insieme le due entità le due classi in un'unica tabella quindi non cambia nulla così come se avessimo in una relazione 1-1 a molti come potrebbe essere questa qua possiede 1-1 a molti avere un attributo di classe una classe di associazione sulla relazione 1-1 a molti è la stessa cosa che averlo sulla classe 1 Quindi le classi associazione sono utili, anzi diventano indispensabili solamente quando abbiamo relazioni molti a molti. Negli altri casi non servirebbero, basterebbe mettere attributi dentro le classi. Poi se le vogliamo usare per maggior chiarezza benvengano. Ok. Ok. Annualità, l'abbiamo indicata come associazione tra polizze e fasce di prezzo, che fa un po', litiga un po' con la classe rinnovo. Cioè sono la stessa cosa o no? Noi abbiamo detto che ogni anno, ogni nuovo anno in cui la polizia viene rinnovata, creerò una nuova relazione tra polizze e fasce di prezzo, mi annoterò la data e questa punterà alla fasce di prezzo nuova di quella polizia. C'è anche un molti qua, scusate. Avevano detto parole ma poi non l'avevamo scritto. Che è un po' quello che forse avevamo in mente per la classe rinnovo, cioè contiene le informazioni su ciò che succede quando la polizia viene rinnovata. Se dovessimo scrivere rinnovo sarebbe una classe collegata sia a polizia che a fasce di prezzo. E come attributo avrebbe anno. O la data di rinnovo. Mettiamoci d'accordo, rinnovo vale anche per il primo anno. Quindi quando dico rinnovo, dico un'annualità che potrebbe anche essere la prima, se no andiamo a complicarci, chiamiamo rinnovo a qualunque annualità, compresa la prima. Quindi non distingo stipula da rinnovo. Quindi questo che abbiamo modellato come annualità va al posto, svolge già la funzione che avrebbe potuto svolgere la classe rinnovo. Non mi serve. Oppure, dici, no ma nel rinnovo potresti avere la penale. Allora, se io penso che nel rinnovo posso avere la penale, il denaro, in realtà perché questa penale non la potrei mettere anche direttamente qua? sono uguali. Ci siamo arrivati, chiamandoli in modi diversi, con aggiornamenti diversi, ma in realtà svolgono la stessa funzione. se, tanto per modellare, se volessimo usare questa classe rinnovo, dovremmo ovviamente collegarla a fasce di prezzo e a polizza e mettergli gli stessi attributi che abbiamo su annualità. quindi abbiamo praticamente due modi diversi di legare polizza a fasce di prezzo. Con la classe intermedia, a questo punto la possiamo chiamare classe intermedia, oppure con la classe delle associazioni. Scegliamo quello dei due che preferiamo, e ovviamente entrambi non vanno bene. C'è una domanda? Non so se sto facendo confusione io, però nel momento in cui noi mettiamo la classe annualità, noi non stiamo vincolando che la polizza possa avere solamente un collegamento a una determinata fasce di prezzo? No. No. Stiamo dicendo che ogni qualvolta la polizza è collegata a una fasce di prezzo, in questo collegamento annotiamo anche delle informazioni in più. Ok. Quello che in realtà stiamo vincolando è che la stessa polizza, la stessa fasce di prezzo non possono comparire più volte. Quello. Questo, sì. Infatti in questo caso... Con rinnovo questo. Esatto. E qui volevo arrivare. Quando ho ritirato in ballo rinnovo. Qui abbiamo sotto... Allora, qui abbiamo fatto due cose. Uno ha ragionato un po' in modi diversi per arrivare a due parti diverse alla stessa conclusione. Che tra polizza e fascia di prezzo ci vuole qualcosa di intermedio che contenga qualche informazione sulle date, sulle penali, eccetera. A questo punto, arrivati qua, ci dobbiamo chiedere quale delle due soluzioni è migliore? È meglio farla con la classe di associazione o con la classe intermedia? Allora, qual è il vincolo principale che pone... Allora, la classe di associazione se si può è preferibile perché è una modellazione più leggera o una classe in meno. Ma che vincolo impone la classe di associazione? È che la classe di associazione può solo aggiungere informazioni a relazioni che esistono. Quindi ad esempio se una polizza è stipulata con una fascia di prezzo polizza 300, fascia di prezzo 5 io non potrò avere un'altra relazione tra la stessa polizza 300 e la stessa fascia di prezzo 5. Perché la relazione dal punto di vista insiemistico o c'è o non c'è non possono essere ce ne due. In questo caso vorrebbe dire che l'utente è obbligato ad avere ogni volta fasce di prezzo diversi che probabilmente non è ciò che vogliamo. Allora, in questo caso è meglio anzi è giusto usare una classe intermedia e non una classe di associazione. Poi questa classe intermedia la possiamo chiamare di nuovo la possiamo chiamare annualità come volete ma è quella che mi permette ogni anno al rinnovo di pensare a una fascia di prezzo indipendentemente dalle fasce di prezzo precedenti perché ogni volta è una nuova riga nella tabella rinnovo che a questo punto può scegliere liberamente qualunque fascia di prezzo. Sceglierà ovviamente una fascia di prezzo tra quelle disponibili vieni su uno e ovviamente qua un molti e il rinnovo sarà relativo a una polizza e quella polizza potrà essere suscettibile di più rinnovi almeno uno perché il primo è la stipola iniziale. e avendo completato questo salutiamo diamo la buonanotte alla nostra classe annualità che non ci serve la nostra relazione annualità che non ci serve più perché è stata sostituita dalla classe intermedia rinnovo o se ci tenevate alla relazione annualità potete chiamare annualità anche questa classe intermedia. Ok. Abbiamo ancora una classe sparuta qua in fondo dati registrati che li mettiamo vicini alla centralina che si chiama polizza come classe perché ovviamente la centralina registra una serie di dati che sono ad esempio la posizione che insomma si chiama GPS la velocità del mezzo e l'istante di tempo quindi una determinata centralina registra moltissimi dati di questo genere e ogni dato registrato è relativo ovviamente a una centralina ben precisa incidente incidente allora l'incidente è qualcosa che si può verificare in una certa data e comporta un certo danno no? Quindi due dati utili cioè facili da indicare gli attributi sono sicuramente la data in cui si verifica e il danno io telefono oggi ho avuto un incidente dice il testo che il proprietario comunica la sicurazione che ha avuto un incidente e qual è il danno subito danno che poi potrà trasformarsi in un imborso oppure no a seconda delle varie regole allora questa classe incidente a cosa lo colleghiamo? veicolo polizza rinnovo o proprietario io lo collegherei a veicolo oppure a polizza uguale sempre per questa relazione forte 1-1 cioè l'incidente è avvenuto su quel veicolo poi conoscendo la data dell'incidente quindi qual è la la fascia di prezzo relativa alla polizza che è stata stipulata su quel veicolo io so dirti poi se te lo pago o non te lo pago quindi il veicolo crash incidente e un veicolo può fare un numero qualunque gli incidenti speriamo pochi sia per il guidatore che per l'assicurazione e ogni incidente è relativo a un veicolo ben preciso quindi dato l'incidente posso passando dal veicolo risalire a tutto il resto dato l'incidente risalgo al veicolo dal veicolo risalgo in modo univoco al proprietario risalgo in modo univoco al tipo di veicolo risalgo in modo univoco alla polizza e poi quando sono sulla polizza vabbè ho tanti dati registrati e ho tanti rinnovi come faccio a scegliere quali sono i dati che mi interessano e qual è il rinnovo che mi interessa o la data quando sono sulla polizza confrontando la data dell'incidente con la data della registrazione e la data del rinnovo posso risalire anche qui in modo univoco al dato registrato e alla fascia di prezzo compreso anche che è il massimale da rimborsabile e gli incidenti compiuti gli incidenti compiuti a un certo punto dice se alla fine dell'anno ha fatto più incidenti di quanti sono previsti dalla fascia di prezzo come faccio a saperlo? semplice dato un veicolo vado a vedere l'elenco di tutti gli incidenti compiuti filtrandoli ovviamente per la data per le date appartenenti all'anno corrente cioè dall'ultimo rinnovo quindi posso il dato su quanti incidenti ho fatto nell'anno non mi serve rappresentarlo esplicitamente perché si trova semplicemente andando a contare quante volte quel veicolo ha fatto un crash se lo volessi rappresentare esplicitamente cosa che non consiglio perché ci sarebbe una ridondanza nel modello per cui lo stesso dato lo posso ottenere in un modo diversi se lo volessi registrare lo registrerai nella classe rinnovo non dentro veicolo o dentro polizza perché il numero di incidenti mi interessa solamente nell'anno di riferimento cioè in quest'anno quanti incidenti hai fatto non mi importa quanti anni hai fatto l'anno scorso il numero totale totale complessivo non mi serve mi serve solo quello dell'anno e quindi lo metto in una classe che ogni anno cambia però come abbiamo visto prima basta contare il numero di relazioni crash che ci sono quindi non mi serve un dato in più poi ci sono ancora un paio di dettagli forse da aggiungere ad esempio il fatto fatemi salvare perché non si sa mai ad esempio il meccanismo di installazione di una centralina su un veicolo quindi la centralina può essere solo assegnata a una polizza oppure anche installata sull'auto quando il titolare lo conferma vabbè questo è un dettaglio nel senso che dentro centralina cioè polizza possiamo aggiungere un attributo booleano che dice che è stata installata o no così come dove era quando parla di pagamento di liquidazione esatto il fatto che l'incidente può essere liquidato oppure meno legato all'incidente possiamo avere quindi sia magari una penale applicata oppure oppure l'importo liquidato questi sono relativi al singolo incidente perché per ogni incidente cosa succede? qui sono tre currency tre valori economici ho un danno di mille euro va bene tutto bene allora penale zero liquidazione mille vuol dire l'assicurazione ti ha pagato i mille euro oppure tu avevi una fascia di prezzo che aveva un massimale di 500 euro e quindi avrai il danno di mille penale zero liquidazione di 500 di quell'incidente lì oppure se il tuo incidente supera il numero massimo di incidenti che potevi fare allora il danno sempre mille o la penale per lo sforo degli incidenti e poi applico la liquidazione pari al massimare la tua nuova fascia oppure all'ammontare del danno penale e liquidazione ovviamente sono valori di segno opposto la penale deve essere pagata dal proprietario all'assicurazione la liquidazione invece va dall'assicurazione al proprietario dell'altra auto non va a me però dal punto di vista dell'assicurazione come dicevo sono valori di segno opposto ok questo mi mancava ancora come modellazione mi ha spostato sulla fascia di prezzo successiva in questo caso vado a modificare la classe rinnovo cambiandogli la fascia di prezzo e gli applico la penale se capita e direi che non mi serve altro se non ho dimenticato nulla ok 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 allora se non abbiamo dubbi o se ne abbiamo troppi da da chiedere qua passiamo al secondo punto che è quello del del o dei processi allora anche qua andiamo a chiederci quali sono i momenti del ciclo di vita di questo sistema io percepisco tre momenti forti uno la stipula di una nuova polizza due il rinnovo cioè il momento annuale in cui va rinnovato e tre l'incidente allora l'incidente è una cosa tipicamente asincrona capita quando capita speriamo che non capita e quindi avrà il suo processo a parte cioè corre deve fare il sistema nel momento in cui arriva l'incidente questo è sicuro la stipula rinnovo possiamo scegliere se fare un processo per la stipula di una nuova polizza per una nuova auto e poi a parte un processo che si ripete ogni anno per il rinnovo oppure concatenarla insieme fare un unico processo in cui la parte iniziale della stipula e la parte finale in basso sarà il rinnovo e questo rinnovo si ripete quindi abbiamo poi un loop che mi riporta sopra e fa sì che dopo che ho fatto il primo rinnovo il secondo non devo ovviamente ristipulare la polizza eccetera ma continuo solamente a fare rinnovi senza senza più fare stipula a me pare più semplice fare tre processi separati in questo caso anche perché il processo di rinnovo è un po' contorto perché devo vedere gli incidenti fatti nell'anno la fascia eccetera quindi se me lo metto in un processo a parte diventa più facile da gestire quindi io farei a questo punto tre processi che sono il processo di stipula di una nuova assicurazione un processo di rinnovo e un processo di incidente in cui i token che cosa sono alla stipula il token relativo alla stipula di un progetto di una nuova polizza dove è la nota eccolo qua è una nuova polizza una nuova polizza nuova polizza stipulata per una nuova auto da parte di un utente esistente sul testo dell'esercizio c'è scritto si supponga che l'utente sia già registrato nel sistema quindi qua non consideriamo la registrazione dell'utente sarebbe eventualmente un altro processo allora cosa devo fare per stipulare una nuova polizza beh facile devo fornirti i dati dell'auto scegliere una fascia e installare la centralina quindi avremo com'è che si chiama questo signore proprietario 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 inserisce i dati del proprio veicolo quindi proprietario è già noto mi inserirà questi dati che sono poi targa telaio data di matricolazione e il tipo di veicolo quindi questi sono i dati del veicolo da lui posseduto a questo punto il sistema informativo assegna un numero di polizza ed una centralina all'utente questo passaggio possiamo scriverlo o non scriverlo ah sì questa è l'auto ok ti creo una nuova polizza su questa nuova polizza caro utente che fascia di prezzo vuoi scegliere? e quindi a questo punto il proprietario sceglie una fascia di prezzo tutto questi sono ovviamente eseguiti in modo semplicemente sequenziale poi dovrà essere installata la centralina quindi la centralina innanzitutto il sistema informativo deve far sì che venga spedita al cliente quindi quello che possiamo indicare è che una volta che il sistema informativo ha segnato un numero di polizza e la centralina invia la centralina all'utente al proprietario e il proprietario dopo che la darà ricevuta confermerà l'avvenuta installazione proprietario conferma allora ovviamente la conferma di installazione può avvenire solo dopo la spedizione della centralina non vedo ovviamente la ricezione della centralina perché il mio sistema informativo non ha dei sensori nella mia buca delle lettere quindi non so quando verrà ricevuta ma quando la riceve prima o poi lui la installerà a un certo punto mi dirà che è installato solo da questo momento la assicurazione funziona diventa operativa finché non ha installato la centralina sono pezzi di carta firmati ma non valgono ancora non sono ancora operativi questo l'ho messo a fianco perché in realtà questo processo di spedizione installazione della centralina può partire anche prima che il proprietario scelga la fase di prezzo poi magari compili altre forme eccetera quindi io qua ci metterei facilmente un fork vado un po' più giù perché altrimenti sta male il fork con la freccia che va in su per indicare che da un lato procede il processo burocratico dall'altro parte un'altra fila che è meglio che parte la prima possibile per l'invio e l'installazione della centralina quando entrambe le cose sono fatte quindi la fascia di prezzo è stata definita e la centralina è stata installata ho finito cioè il processo di stipula è concluso quindi qua ci metto il mio join e posso terminare il processo qui in realtà manca una cosa bella grossa cioè il pagamento quando è che pago? potrebbe essere qua dovrebbe forse essere qua dopo che scelto la fascia di prezzo e prima che la polizza divenga attiva devo pagare il testo non ne parla minimamente direi però potremmo metterlo quindi il proprietario senza dare troppi dettagli perché non sappiamo come con che modalità con che tempi paga il premio quale premio? quello definito dalla fascia di prezzo che lui ha appena scelto in fase di prima stipula non ci sono vincoli sulla fascia di prezzo sceglie quella che vuole questo è molto lineare passiamo all'altro se me lo permettete faccio prima quello dell'incidente perché poi il rinnovo deve tenere conto anche del fatto che ci siano stati incidenti o no quindi facciamo prima l'incidente processo dell'incidente ha come token un singolo incidente compiuto da un veicolo quindi se io sono talmente maldestro da fare 10 incidenti quest'anno percorrerò questo processo 10 volte ogni volta con i dati relativi a quello specifico incidente i dati d'incidente sono il luogo la data e il danno allora andiamo un po' a leggere il testo cosa dice quando parla di incidente ad ogni incidente verificato il cliente si connette al sito e segnala l'avvenuto sinistro indicando l'ammontare del danno causato quindi questa è la prima azione che lui fa è un po' irrealistico perché appena hai bocciato in autostrada non è che sai dire quant'è il danno però qui l'abbiamo semplificato quindi abbiamo il proprietario che segnala l'incidente e specifica il danno causato poi l'assicurazione provvede adesso qui è scritto in modo contorto provvede l'equilazione del danno solo se il numero massimo incidenti non è ancora stato raggiunto la centralina bla 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 e vabbè qui ti permette di capire se l'incidente è realistico oppure no quindi alla fine arriviamo all'assicurazione liquida del danno ma prima dobbiamo fare una serie di controlli cosa può capitare può capitare che l'assicurazione liquida del danno e va bene oppure non liquida il danno perché l'incidente è finto perché la centralina fa capire che non è finto e quindi non liquida il danno ma ti applica una penale terzo caso devi cambiare fascia perché è superato il massimo numero di incidenti quindi cambia fascia e poi liquida il danno quando dico liquida il danno ovviamente sto dicendo liquida il danno al netto del massimale specificato se il tuo danno è superiore al massimale che avevi liquida solamente il valore del massimale e qui l'abbiamo fatta facile perché non ce la franchigia se no è ancora più complicato allora abbiamo questi tre mi sembra che siano solamente questi tre macro casi e dobbiamo distinguere in quale di questi casi ci troviamo allora io andrei a vedere per primo il caso dell'incidente fasullo cioè prima di andare a fare i conti il danno ce l'ho non ce l'ho quanti incidenti hai fatto verifichiamo che la richiesta sia lecita quindi la prima cosa che fa l'assicurazione il tizio mi dice guarda che hai avuto un incidente ah sì adesso te lo dico io se l'hai avuto prima di parlare l'altro fammi verificare che sia effettivamente così come avviene e avviene attraverso quello dice la centralina trasmette continuamente i dati la quale può finir confermare che l'incidente che effettivamente è avvenuto un urto quindi quando il proprietario segnale l'incidente noi avremo il sistema informativo che recupera ed elabora i dati della centralina quale centralina? quella associata a questo veicolo c'è collegamento fino alla centralina dal veicolo anzi dall'incidente e poi a questo punto avremo l'impiegato dell'assicurazione che è un attore diverso a questo punto finora non era comparso non serviva un omino dell'assicurazione un attore perché la stipula veniva totalmente online qui il sistema informativo può analizzare dei dati li presenta a un addetto dell'assicurazione nel quale poi lui dovrà verificare valutare e decidere quindi l'assicurazione verifica se l'incidente è reale ad esempio e a seconda che sia reale o no faccio cose diverse quindi qua metto un bel blocco di scelta quindi verifica se l'incidente è reale vuol dire che ci sarà qualcuno che dice ok oppure no questo ok o no è l'informazione sulla base della quale questo blocco di scelta decide dove condurre il token questa verifica viene fatta a valle di un'elaborazione dei dati dal sistema informativo quindi magari non può essere svolta istantaneamente perché la centralina magari ha bisogno di tempo per trasmettere i dati non lo so quindi sono azioni separate dopo la segnalazione dell'incidente il giorno dopo quello che sarà l'impiegato dell'assicurazione va a vedere i dati va a vedere i grafici le posizioni dove si trovava la velocità eccetera se combacia con la descrizione dell'incidente allora la approva altrimenti no se non è approvato allora cosa succede devo pagare la penale e basta nel caso in cui i dati non riportassero la presenza dell'urto la richiesta di liquidazione non viene evasa e al titolare viene applicata una penale punto quindi qua abbiamo applica penale e finisci lì nel caso in cui la verifica incidente reale no non è reale e poi ho finito se invece l'incidente è reale vado avanti allora so che devo rimborsartelo andiamo a vedere se sono le condizioni di rimborsartelo allora cosa devo verificare verificare se il numero di massimo incidenti non è ancora stato raggiunto quindi verifico se gli incidenti compiuti dalla tua auto in quest'anno è minore del numero massimo incidenti dati della tua fascia di prezzo quindi da qui ho un altro subito dopo un altro blocco di scelta in cui vado a valutare questa condizione cioè la condizione normale che metto magari qua sotto il caso normale è quello in cui quello in cui il numero di incidenti fatti nell'anno è minore del max incidenti per la fascia scelta questo lo posso far subito vedete che qua a differenza di prima non ho bisogno di un assicuratore che mi dica quanti incidenti ha fatto eccetera sono tutti i dati che il sistema informativo ha già quanti incidenti questo io il veicolo lo so qual è è nel token quindi dato il veicolo so quanti incidenti ha fatto nell'anno basta che io vado a vedere la reazione crash e controlli le date so quanti quant'è il numero massimo incidenti per la fascia scelta certo perché da veicolo facilmente arrivo a rinnovo per l'anno in corso e da rinnovo vedo qual è la fascia quindi questo blocco di scelta può partire subito non ha bisogno di un'azione prima il sistema informativo qua analizza dati che ha già e se vanno bene cosa fa è semplicemente eroga ok quindi l'assicurazione il sistema informativo non c'è bisogno dell'omino che lo faccia il sistema informativo può liquidare il danno nella misura del minimo tra danno e massimale ovviamente io ho finito c'è tutto a posto l'incidente cosa sto facendo l'incidente era reale il numero massimo incidenti non è stato sforato allora devo pagare quanto pago il minimo tra il valore del danno effettivo e il valore del massimale associato a questa fascia di prezzo si qualcuno dice ma allora faccio un altro rombo che dice se è minore il massimale se non è minore il massimale se è maggiore il massimale faccio due cose diverse in realtà se me la cavo con una semplice espressione faccio prima se invece dall'altra parte scusate qua mi mancava un sì che non ho scritto cioè l'incidente reale sì se sì l'incidente nell'anno è minore liquida il danno poi ho l'altro ramo in cui l'incidente sì era reale ma ho superato ho sforato il numero di incidenti massimi allora cosa devo fare? devo scalarti di fascia quindi avremo che il sistema informativo incrementa la fascia dell'utente ed applica una penale questo lo può fare in automatico e quindi nel caso altrimenti se non è vera questa questa disuguaglianza allora il sistema informativo deve incrementare la fascia e ti applicare una penale dopo che ti ho applicato la penale e praticamente ricadi in questo caso nel caso precedente ti ho applicato la penale e quindi adesso il numero di incidenti max non è più quello di prima è aumentato e quindi di sicuro ci rientri e quindi posso liquidarti il danno relativo ovviamente al nuovo massimale ma nel frattempo ti sei beccato una penale applica una penale io ce l'ho la penale ricordiamoci che è scritta qua quindi vuol dire che il sistema informativo imposta che per per liquidazione di quell'incidente e allora semplicemente posso ricondurmi al caso precedente se per caso sono troppi incidenti prima di liquidare il danno devo farti pagare la penale e passarti di fascia anche qua il testo non diceva nulla su come e quando questa penale debba essere pagata e quindi sto sorvolando sul dettaglio sul quale l'assicurazione invece quelle vere non sorvolano mai ok abbiamo dimenticato qualcosa penso di no ok rimane a questo punto il processo del rinnovo che è un processo che si svolge una volta all'anno per ogni polizza quindi non è il token che si svolge una volta per ogni polizza ma per ogni polizza ogni anno si svolge questo processo quindi un modo di rappresentarlo questo è il token normale un modo di rappresentarlo potrebbe anche essere quello di far iniziare il processo con un timer alla scadenza della polizza quindi ci sono tre modi diversi di disegnare questa cosa scegliete quello che preferite o il classico processo in cui ho spiegato che il token avviene una volta all'anno oppure un processo in cui all'avvio del token rimango in attesa della scadenza della polizza e poi parto col processo oppure questa rappresentazione qua si può anche disegnare in forma abbreviata partendo direttamente con la clessidra è possibile iniziare un processo oltre che col simbolo di token iniziale anche con la clessidra o con l'evento ricevuto quindi quel processo parte quando arriva un evento oppure parte quando si arriva a una certa data queste tre forme sono equivalenti soprattutto la seconda e la terza perché sono espliciti su ciò che succede questa è un po' debole perché non chiarisce che questo evento può farsi solamente in un certo giorno ok? quindi normalmente probabilmente useremo quest'ultima forma ma sappiate che questa forma diciamo così breve è accettabilissima ok? però per andare avanti da qua in poi ci serve più tempo di quanto non ce ne sia rimasto a disposizione e quindi lo rimanderei a giovedì a giovedì a giovedì Grazie.